Perché l'olio di cocco può aiutarti a dimagrire? Quali sono le sue proprietà e come può aiutare la donna in pre o post menopausa? Oggi ti parlerò dell'olio di cocco e mi raccomando scrivimi nei commenti se hai mai provato quest'olio, se lo stai utilizzando attualmente e per quale motivo lo utilizzi. Sono il dottor Marco Rizzo, dietista e nutrizionista, esperto di alimentazione e menopausa. Ti invito a iscriverti al canale e a spuntare la campanella se sei interessato all'alimentazione e la salute in menopausa. I prodotti alimentari nuovi, un po' strani, particolari, insomma tutto ciò che è fuori dall'ordinario incuriosisce. Affascina. E poi spesso ci montano sopra anche degli scoop, effetti miracolosi, come se questi alimenti fossero la panacea per tutti i mali. Se non l'hai capito mi sto riferendo proprio all'olio di cocco. Invece ciò che è normale, ciò che conosciamo è diventato noioso quando magari è il bene più prezioso che abbiamo. Mi riferisco in questo caso all'olio extravergine di oliva. Gli oli hanno tutti le stesse calorie, a parità di peso. Quindi l'olio di cocco non è assolutamente più dietetico rispetto ad altri oli. E le sue proprietà nutrizionali invece? Ma. Ci rendiamo conto che l'olio extravergine di oliva è invidiato in tutto il mondo. L'olio più buono in assoluto è anche il più sano. Infatti non incide sulla colesterolemia, è associato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. È l'olio più ricco di antiossidanti come la vitamina E, i flavonoidi, le molecole secoiridoidiche, i composti fenolici e i fitosteroli che abbassano il colesterolo. L'olio di oliva ha tutte queste caratteristiche e viene snobbato perché i fuffaroli sul web parlano dell'olio di cocco. Devi sapere che l'olio di cocco è ricco di grassi saturi, quelli più pericolosi per la nostra salute perché aumentano notevolmente il rischio cardiovascolare. L'olio di oliva invece di grassi saturi ne contiene molti ma molti meno. Ti cito due riviste scientifiche che hanno un grande impatto nella letteratura internazionale. La rivista scientifica Circulation e la rivista Diabetes Metabolic Syndrome and Obesity. Entrambe le riviste hanno evidenziato che l'olio di cocco ha un effetto negativo. Infatti il suo consumo è associato all'aumento dei livelli di colesterolo circolanti nel sangue. Ne consegue un maggior rischio cardiovascolare. Lascia perdere l'olio di cocco. Ma poi non sa di nulla. Abbiamo l'oro in casa nostra, in Italia, l'olio extravergine di oliva. Ma non ce ne accorgiamo. Io ho concluso. Spero che questo video ti sia piaciuto e sia stato educativo per te. Se è così lascia un like, ma soprattutto fammi sapere nei commenti qual è il tuo olio preferito. Prima di andare via, sei una donna in pre o post menopausa? Fammi indovinare. Stai cercando una soluzione per dimagrire in salute senza fare la fame, vero? Bene. Allora ascoltami. Cliccando sul link nel mio profilo scoprirai qual è il segreto che sta permettendo a più di 600 miei pazienti di dimagrire mangiando anche la pizza o il cornetto alla mattina.